Salve a tutti e bentornati su Burger Minecraft Oggi ragazzi voglio farvi vedere come Creare delle armi per distruggere il vostro mondo O per griffare server Senza avere plugin o mod Vedete io sono in single player adesso Allora, dovremo avere un command block Che si potrà avere giudicando Jive, Giv, Drake, Varn Nostro nome in Minecraft E command block Per chi ha la 1.8 Infatti questo comando è 1.8 Allora, fatto ciò Dovremmo avere un blocco di redstone Dopo aver messo il blocco di redstone qui Anzi, prima mettiamo il blocco questo qua Adesso facciamo set Cioè copiamo il comando Settiamo il comando Ok La gira per 5 secondi Per se in causa del computer è schifoso Ok Un'altra volta così creerà questa macchina Vedete Questa macchina qua che adesso si crea E inizieranno a spawnare questi command block Ragazzi, tutto è normale E la macchina dovrebbe crearsi in questo modo Con socchi di bedrock E andiamo qua Per distruggere la macchina Bisogna Senza che andate a crefare tutto quanto No, potete cliccare su No, potete cliccare su right click Disit Destroy the machine Cioè Clicca qua se vuoi distruggere la macchina Allora Per Gli item dovete cliccare qua Perfetto Per il file Potete semplicemente Usare Lo farò così Lanciando le frecce Adesso mi lagga A me se lo faccio Perché da tanto Ecco Vedete E appena lo laggo E appena lo lancio Mi sa che neanche che crash Allora Con questi Boot Avremo Salute istantanea Saturazione Resistenza infinita E Vedete E con questa corazza Invece Avremo Posizione dal fuoco Oh, posizione Vabbè Allora Con Womber Beth Vedete Io adesso ne che so Uno Dovrebbe esplodere Dai Allora Proviamo A lanciare Vedete Ragazzi Come distrutto La La prende Anche dei firework Che Distruggono Cranet Così Per Fare Il mondo Poi Ragazzi Ci danno Vabbè I Miggie Squid Vedete Sta Girando Vedete Ragazzi Creerà Un Pandemonio E Ha Fatto Un Buon No E Anche Una Buca Poi Ragazzi Abbiamo L'unville Bomb Per questa Cosa Però Che è il post Spare Però Non c'è Le Unville Vedete Poi Abbiamo Instant Fire Cracker Vedete Sono Cracker E Abbiamo Abbiamo Bomber Bomber Vedete Ogni volta Che Poi Quando Arrissate Lanceranno Delle Bombe Ogni Tanto Potranno Di Stazione Insomma Vedete La I Già Minecraft E Riuscita Di Inventare Questa Macchina Che Vi Aiuterà Ad Avere Tanto In Cosa Che Questa Cosa In Single Player Che Forse Funzionerà In Multi Player Questo Non Lo So Allora Distruggiamo La Nostra Macchina Facciamo Toglier I Di Distruggiamo Command Block Come se Non è Successo Niente E Guardiamo In Santa Pace Questo Mondo Ormai Distrutto Dalle Nostre Armi Fatte Della I Minecraft Di Vi Lascerò Ovviamente Il Comando Di Descrizione Del